domani manifestiamo per le nazionalizzazioni ma sei temati qualcuno dirà per le nazionalizzazioni con tutto quello che sta succedendo in questo momento in italia cosa sta succedendo in realtà in italia questa mattina matera capitale europea della cultura si è svegliata senza l'acqua è stato chiuso l'acquedotto perché infetto direte il sud no 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 poche giorni fa nella provincia di brescia centinaia di persone sono si sono ammalate di legionella per che cosa in realtà non si sa ancora l'acqua forse no l'aria l'aria perché l'aria inquinata per gli scarichi non controllati delle industrie ovunque noi andiamo viviamo questo drammatico contrasto le condizioni della vita normale sono sempre più difficili però siamo pieni di centri commerciali di beni di consumi di consumi di larga disponibilità però i beni essenziali quelli che servono per vivere per avere una vita normale sono sempre più rari sempre più costosi ecco questo è l'effetto della grande privatizzazione cioè di quel processo che c'è da decine di anni in italia per il quale non solo sono state vendute o regalate ai privati aziende fondamentali che poi sono state smantellate no si è privatizzati si sono privatizzati i servizi essenziali si sono privatizzati i beni comuni i beni per la vita quotidiana si è privatizzata la vita si è affidato al mercato la vita normale quotidiana delle persone in questi giorni parliamo ancora di brescia a brescia si voterà a metà novembre per un referendum per mantenere l'acqua pubblica come mi direte si è già votato per questo in italia si è stato un referendum nazionale una decina di anni fa per mantenere l'acqua pubblica esatto nessuno l'ha rispettato pochissimi l'hanno rispettato pochissimi comuni in italia la gran parte delle istituzioni pubbliche hanno continuato a privatizzare a brescia si continua a privatizzare perché perché si tagliano i fondi perché c'è il rigore di bilancio perché c'è l'austerità e quindi dove si guadagna privatizzando l'acqua viene privatizzata e si vota a brescia per non privatizzarla come dovrebbe essere scritto e come dovrebbe si dovrebbe fare obbedendo alla nostra costituzione e a roma negli stessi giorni sempre a metà novembre si voterà per non privatizzare il trasporto pubblico perché anche lì c'è chi dice a pieno raccolto le firme si fa un referendum privatizziamo il trasporto pubblico così funziona meglio funziona meglio adesso andiamo a genova dove abbiamo visto come funziona meglio la privatizzazione la strage del ponte morandi una strage drammatica ma che non a caso ne ha richiamato una ancora più drammatica più tragica con migliaia di vittime la strage del vaillant del 1962 allora quella strage era frutto del la diga che avevano che aveva costruite in un posto dove non doveva essere costruite che aveva prodotto l'immane disastro la distruzione di interi paesi ecco era frutto della energia elettrica privata allora si stava nazionalizzando l'energia elettrica e la dica del vaillant e la strage della diga del vaillant era frutto dell'energia elettrica privata di prima oggi si sta riprivatizzando l'energia elettrica ci telefonano per 10 vuoi scegliere il gestore ecco tutto questo avviene perché da 15 20 30 anni nel nostro paese il processo di fondo è quello della privatizzazione e ripeto non solo della privatizzazione dei servizi ma della privatizzazione della vita la privatizzazione della sanità ieri ho sentito la pubblicità di una compagnia di assicurazione che racconta come una famiglia è riuscita a superare la malattia della figlia rivolgendosi ad essa compagnia di assicurazione ha garantito il pronto intervento quello che dovrebbe garantire il servizio pubblico ecco la privatizzazione della sanità è una delle cose più infami di questa società noi avevamo una delle sanità più avanzate e meno costose del sistema pubblico del sistema sanitario mondiale oggi la stiamo privatizzando in nome del profitto ma qual è il profitto della sanità come si misura il guadagno nella sanità nella sanità l'unico guadagno accettabile è le persone che vengono curate le persone che vengono guarite le persone a cui viene allungata l'aspettativa di vita grazie alla sanità non il quanto costa e quanto si guadagna sulla sanità la privatizzazione della sanità è un crimine contro l'umanità e accanto a questa ci sono altre privatizzazioni quella della scuola che avanza attraverso il legame che viene sempre più esaltato tra scuola e azienda la scuola deve servire al mercato non a formare le persone ma a educarli ad essere lavoratori obbedienti al mercato anzi si comincia addirittura con l'alternanza scuola lavoro fin da giovani giovani vengono devono essere educati ad andare a lavorare gratis perché questo è l'avvio del posto di lavoro ecco questa è la grande privatizzazione uno sconvolgimento della nostra società a cui bisogna contrapporre il ritorno al pubblico al controllo pubblico dei beni comuni alle nazionalizzazioni cioè un dominio della politica pubblica e del controllo pubblico democratico sul mercato l'esatto opposto di quello che è stato fatto finora mi direte ma questo adesso viene messo in discussione il governo giallo verde sta mettendo in discussione la privatizzazione non è vero a parole sì ci sono una marea di annunci ma lasciamo perdere gli annunci la sostanza è che questo governo ogni tanto da qualcosa a qualcuno qualche cosa ai poveri qualche cosa forse ai pensionati nel quadro delle stesse politiche economiche di privatizzazione di regali alle imprese si dice che si devono aiutanti che si farà scomparire la povertà e poi con il decreto salvini si mettono in prigione i poveri si dice che si devono si cambieranno le pensioni si miglioreranno le pensioni e poi si fa il condono fiscale si regalano i soldi ai ricchi un colpo al cerchio un colpo alla botte quello più grosso è sempre alla botte che siamo noi e tutto questo senza modificare la sostanza della politica economica una politica economica fondata sul privato d'altra parte il socio di maggioranza di questo governo quello che comanda la lega di salvini è un partito che dove governa pensiamo in particolare in lombardia nel vento nelle regioni dove governano è il partito del privato delle privatizzazioni del mercato e del profitto quindi come fa a cambiare politica però dall'altra parte noi abbiamo l'unione europea che non è che contesta salvini perché ha fatto le leggi feroci sui migranti no contesta salvini perché forse nell'ambito della sua campagna elettorale vuol dare qualche cosa alle pensioni ecco qui abbiamo quindi uno scontro tra quelli che sono praticamente due versioni della stessa politica una più razzista una più fintamente liberale ma tutte e due che portano al trionfo del mercato del privato per questo noi in qualche modo ci sentiamo dentro una gabbia perché siamo di fronte a tante alternative tutte mostruose tutte della stessa politica per questo bisogna scendere in piazza come si fa se non fare diversamente scendiamo in piazza per le nazionalizzazioni per provare a cambiare la politica e facciamo anche a cavallo di questa manifestazione l'assemblea di potere al popolo per cercare di costruire non semplicemente una forza politica ma riportare con forza nella politica tutto quello che la politica ha espulso le nazionalizzazioni i beni comuni i diritti sociali l'eguaglianza sociale parole che sono diventate bestemmie e che devono ridiventare invece i valori fondamentali della politica su questo scendiamo in piazza